Musica Ben trovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Andiamo a Venezia dove la Polizia Municipale della città lagunare ha concluso un'indagine relativa alla identificazione e ai permessi autorizzativi degli artisti di strada presenti in città denunciandone uno e arrestandone un altro. Al termine delle indagini un uomo è stato tratto in arresto per possesso ed uso di un passaporto contraffatto nonché per possesso ed uso di un'autorizzazione amministrativa contraffatta mentre l'altro è stato deferito a piede libero dall'autorità giudiziaria per possesso ed uso di un'autorizzazione amministrativa contraffatta. Andiamo a Rovigo, una donna di 68 anni, Daniela Gennari, pensionata, è morta a seguito di un incidente mortale avvenuto all'Oreo. La donna è stata investita in bici a pochi metri da casa da un furgone in dotazione a Lauser che porta i pasti a domicilio. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso. La donna è morta poco dopo l'incidente, la cui dinamica ora è al baglio dei carabinieri. Militari esposti al gas Radon nell'ex base Nato di Montevenda per anni ed è qui che è stato condannato un imputato, Agostino Di Donna, ex direttore generale della sanità militare a due anni di reclusione appena sospesa per tre casi, due militari che sono deceduti, un altro che è malato. Assolto da ogni accusa invece l'ex capo di Stato Maggiore Franco Pisano, 86enne, residente ad Abano Terme. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo e violazione della tutela delle condizioni di lavoro. Il Radon del Montevenda ha ucciso fin qui ben 119 militari dell'aeronautica. Ma si contano anche ora altri 48 malati, alcuni dei quali potrebbero finire sulla lista delle vittime. Per un decennio, dal 1988 al 1998, nei ranghi dell'aeronautica militare, vi fu una colpevole ignoranza e inerzia nella individuazione dei fattori di rischio ambientale a cui erano sottoposti i militari in servizio al Montevenda. L'amministrazione militare allora ignorò totalmente il problema. Per una questione di precedenza di parcheggio dell'auto, una vicentina di 64 anni ora dovrà rispondere in tribunale di lesioni volontarie per aver investito volontariamente una ragazza di 27 anni pure residente in città. Curioso l'incidente che si era verificato in un parcheggio all'ospedale San Bortolo nel lontano 2015. Per l'accusa, la 64enne Paola Suave era al volante di un'auto e voleva parcheggiare. Il posto individuato era però fisicamente occupato da una 27enne Stefania Marchese per permettere il parcheggio ad un'amica. Atteggiamento ritenuto maleducato dalla 64enne che arrabbiata invitò la 27enne a spostarsi. La richiesta fu appunto negativa e così la donna, per costringere la ragazza a spostarsi, l'avrebbe colpita con la parte anteriore dell'auto. Dolorante, la 27enne, si era recato poi al pronto soccorso dove venne diagnosticata una frattura con prognosi di guarigione in un mese. Di qui la denuncia. Una studentessa trentenne di Udine ieri mattina ha rischiato di morire all'interno di un appartamento in via Rudena a Padova. Il locale dove si trovava la ragazza era saturo di gas. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco e della polizia, la giovane è stata messa in salvo e trasferita all'ospedale dai sanitari del SUEM 118, dove è stata sottoposta a terapia iperbarica. Incidente stradale questa mattina a Pernumia in via Rivella, un 77enne di Monselici al volante del trattore, quando probabilmente colto da Malore ha prima tamponato un'auto che lo precedeva, poi è finito nel canale adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato il personale del SUEM 118 ad estrarre l'uomo dalla difficile posizione in cui si era messo. È un pensionato che guida l'auto completamente ubriaco, nel sangue aveva alcol per ben oltre 4 volte il consentito. Il pensionato, un uomo di 74 anni, dopo gli accertamenti è stato trovato con ben 2,242 grammi di alcol nel sangue per litro, proprio in via Aldo Moro, in centro a Ponte San Nicolò. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente. Sembra una sceneggiatura per un nuovo film, ma invece è realtà. Dopo un anno e mezzo di convivenza mancava soltanto il matrimonio a suggellare il rapporto d'amore. Eppure la relazione si è spezzata in modo traumatico a pochi minuti dalla fatidico sì davanti ad un consigliere comunale con la fascia tricolore. Il fatto è accaduto a Legnago, in provincia di Verona. La celebrazione di un matrimonio è andata così in fumo all'improvviso a causa di un tradimento. Infatto i protagonisti di questa storia sono una ragazza italiana di 26 anni che lavora come operaia in una ditta della provincia di Padova. Il suo partner di origini marocchine, anche gli operaio a Padova, ma anche volto noto dalle parti della stazione dove il cugino gestisce un salone di parrucchiere. Il matrimonio era previsto per le 11 del mattino. Prima hanno iniziato a dire che la sposa non poteva andare a causa della febbre. Poi è venuta a galla la verità, ovvero che la 26enne aveva un altro uomo e lo frequentava ormai da mesi. Preoccupazione e sgomento tra il personale operativo dei vigili del fuoco che nel corso degli anni, oltre ad aver parcheggiato vetture dell'amministrazione all'interno dei box della caserma in zona stanga, li ha smontati e rimontati maneggiandoli diverse volte senza protezioni alle vie respiratorie e idonei dispositivi di protezione individuale. individuale, ignaro proprio al pericolo in cui andavano incontro. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori che negli anni hanno operato nella sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Padova, sono state ora interessate il Dipartimento, le varie direzioni centrali competenti, l'ARPA, lo Spisal e il Sindaco di Padova. Ora si cercherà di fare luce su eventuali profili di rilevanza penale e nel caso individuare i responsabili e quindi procedere nei loro confronti con un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, attivando ogni atto opportuno. Il tavolo istituzionale sul nuovo ospedale di Padova è stato convocato dal Presidente della Regione Luca Zaia per lunedì prossimo 6 novembre. A partire dalle ore 9 a Palazzo Balbi, ricordo sede della Giunta regionale a Venezia, ci sarà appunto la riunione con la Regione, appunto il Comune, la provincia di Padova, l'Università, l'Azienda ospedaliera e l'Istituto Oncologico del Veneto. È pronta a partire in Veneto entro i primi giorni di novembre la campagna vaccinale antinfluenziale 2017-2018 che viene realizzata dai servizi igiene e sanità pubblica dell'USL in collaborazione con i medici di medicina generale in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. Allo scopo la Regione Veneto ha preventivato l'acquisto di ben 850 mila dosi di vaccino in parte già distribuite nelle diverse USL. Gli ultra 65 anni vaccinati sono già stati il 56% degli anziani residenti in Regione. Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti che contengono due virus di tipo A e un virus di tipo B. E' un vaccino quadrivalente che contiene due virus di tipo A e due virus di tipo B. L'influenza può essere una malattia complicata, lo hanno testimoniato le statistiche. Da 2010 ad oggi solo nel Veneto sono stati necessari oltre 600 ricoveri all'ospedale e si sono avuti purtroppo 95 decessi. Lo scorso anno furono ricoverate 101 persone che fecero registrare ben 55 casi gravi o molto gravi e purtroppo 8 decessi. Si riunisce domani venerdì 3 novembre alle ore 10 e non alle ore 9 come già invece preventivato presso la sala polifunzionale di Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la consulta del Veneto per l'autonomia convocata dal Presidente della Regione, Luca Zaia. All'organismo, individuato con una delibera approvata all'indomani dall'esito del referendum sull'autonomia, partecipano 34 soggetti in rappresentanza delle autonomie locali, delle categorie economiche e produttive del territorio, nonché delle forze sindacali, del terzo settore, del mondo della università e della ricerca e di altri organismi e espressioni di interessi diffusi a livello regionale. L'organismo, lo ricordiamo alla consulta quale organismo permanente rappresentativo dell'intero sistema Veneto, è affidato infatti il compito di supportare la delegazione regionale trattante che andrà poi a negoziare con lo Stato dopo il referendum. Sono 22 le proposte progettuali che hanno superato positivamente le fasi di valutazione del bando per la presentazione del progetto standard, con un impegno finanziario di 21 milioni di euro pubblicato lo scorso marzo nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Croazia, del quale la Regione del Veneto e le autorità di gestione. Obiettivo del programma è incrementare la prosperità dell'area costiera e sviluppare il potenziale della cosiddetta crescita blu, valorizzazione del potenziale dei mari e delle coste per la creazione di opportunità di lavoro e di nuove aziende in maniera sostenibile. Oggi 2 novembre si commemorano i defunti, il Vescovo di Padova ha deciso di svolgere la Santa Messa di commemorazione presso il Cimitero Maggiore, sito a Chiesa Nuova. Vi sono stati momenti di raccoglimento precedenti alla successiva processione e alla presenza di numerosi padovanni. Vediamo. A partire da questa festa, da questa celebrazione e commemorazione dei morti, dobbiamo riscoprire questo senso di appartenere ad una collettività, ad una comunità. Per cui mi sembra molto significativo che veniamo al Cimitero a celebrare questa ricorrenza quasi per dire che ci siamo tutti, i cittadini ci sono tutti, non soltanto i cristiani e non siamo soltanto gli individui, ci riconosciamo legati gli uni agli altri. Compie 20 anni il novembre filosofico, la proposta culturale che prende il via proprio lunedì prossimo all'MPX di Via Bonporti a Padova, organizzata da Antonianum, Dialogo tra Buonsenso e Sapienza, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate e l'Ufficio Dioceseano di Passorale della Comunicazione. Per tutti i lunedì di novembre torna l'abbinata della Rassegna a un filosofo al cinema con le conferenze filosofiche alle ore 21 alla Multisalla Multiplex di Via Bonporti 22. Tema di questa ventesima edizione è l'avvenire che tormenta il passato che trattiene il presente che fugge. Primo appuntamento, dicevamo, lunedì prossimo con il film Nebraska. Con questo, dopo l'appuntamento, sarà con il filosofo Umberto Curi. Anche stasera, come ogni giovedì sera, ritorna alle ore 21 in televisione il Tarlo, trasmissione di politica e attualità e soprattutto con ospiti in studio, protagonisti della società, della politica e dell'associazionismo condotto in studio da Alberto Salmaso. E per ultimo la viabilità. Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare via Giorgione da lunedì prossimo a venerdì 24 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18 per un intervento di bonifica alla condotta del gas. Saranno chiuse anche via Vicenza, compreso tra il tratto principale e il tratto secondario di via delle Melette da oggi a martedì 7 novembre dalle ore 9 alle ore 18 per il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica e per la rimozione dei parapetti di protezione di un edificio. Domenica 5 novembre dalle ore 8 alle ore 17 per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori alternativamente verranno chiuse anche via San Francesco tratto compreso tra via Ospedale Civile e il numero civico 157 e via Ospedale Civile tratto compreso tra via San Francesco e il numero civico 4. Viene inoltre prorogata fino al 31 di gennaio l'ordinanza numero 48 con oggetto l'istituzione temporanea di un'area pedonale nel comparto viario delle piazze e provvedimenti correlati. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito. Buona visione dei nostri programmi.